Proseguono le iniziative del Lions Club Ugella Civitas di Biella, incentrate sulla figura di Amedeo Avogadro. Il tema della conferenza che si interroge a Città Studi sarà I giovani, lavoro e imprese, generazione a confronto. Noi del liceo Avogadro di Biella abbiamo organizzato alcune interviste ai relatori. Vediamone un estratto. Che consiglio darebbe a un giovane imprenditore? Il consiglio che do è quello di osare. Io penso che chi faccia impresa debba impegnarsi in particolare a tramandare dei valori. Sono i valori della cultura d'impresa, la passione per l'innovazione, la fiducia nel progresso, ma poi anche una certa attitudine a rischio, a rischiare. Secondo me più si è giovani, più si può rischiare. Bisogna imparare sin da subito a scegliersi i giusti compagni di squadra, anche con diversi livelli di esperienza, diversi percorsi. Perché penso che lo spirito imprenditoriale, l'attitudine imprenditoriale la si possa coltivare solo così. solo partendo da qui, da una maggiore propensione per il rischio. E oggi è qui come presidente del complesso di Città Studi. Ci può dare un bilancio dei primi giorni qua? Diciamo un bilancio molto positivo. Ho trovato all'interno di Città Studi una serie di iniziative assolutamente interessanti, sia nel campo formativo che nel campo della ricerca. e oggi stiamo cercando di sviluppare anche la conoscenza di queste attività fuori da questo campus. In realtà oggi Città Studi è un campus di servizi formativi per lo sviluppo del territorio. Quindi dobbiamo puntare su tre aspetti. La formazione, la ricerca e la divulgazione. Queste sono le aree su cui lavoreremo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nei prossimi anni proprio per cercare degli nuovi stimoli a questo tempo. Secondo lei, qual è, cioè quanto è difficile per un giovane al giorno d'oggi avviare una start-up? Io sono convinto che tutto nasca dall'idea e dal fatto che si creda in una certa idea. I giovani sono quelli che ci possono dare. A noi adulti, io lo vedo facendo lezioni anche all'università, mi provengono degli stimoli rispetto a cosa a cui non avrei mai pensato se non fossero stati i miei studenti a sollecitarli. che noi adulti abbiamo bisogno delle leve più giovani perché sono quelle che sanno guardare e sanno proiettarsi verso il futuro perché inevitabilmente noi tendiamo a guardare al passato. Ringraziamo Lions Club e Città Studi per aver ospitato questo evento ed un saluto dalla Quarta C del Liceo Scientifico di Biella.